Si vuole far cacciare Massimo, si vuole far cacciare, un conto è andare a dire mi dimette, un conto è far cacciare. Io credo che lui abbia capito che con questa Lazio competere nel campionato della Champions sia quasi impossibile. Sta dimostrando a parole l'insofferenza verso la società, insomma è venuta fuori più volte. Ora ha tirato fuori questo discorso, si sa, gli allenatori comunque molto probabilmente lo farei anche io, non rinuncerei a 3-3 milioni e mezzo o quelle che sono. Molto probabilmente se fosse il Presidente a prendere l'iniziativa e a cacciarlo, a Sarri starebbe anche bene. Perché secondo me quest'anno ha tutto da perdere, niente da guadagnare per come la vedo io.